Che cos'è il Chilometro Rosso? È un parco scientifico tecnologico, lo puoi vedere dall'autostrada che va da Milano a Bergamo, ha un muro rosso grande davanti e dietro all'interno ci sono 60-70 aziende che affrontano tematiche diverse, tra l'ICT, le materiali e tra di queste menziono Brembo che è specialista dei sistemi frenanti. Il Chilometro Rosso in realtà è un polo di innovazione che cerca appunto di aiutare le aziende a fare scouting tecnologico, anche a migliorare la loro strategia di innovazione. Il Chilometro Rosso stesso sta affrontando un percorso di digitalizzazione importante, infatti da settembre ci sarà un laboratorio di robotica all'interno del Chilometro Rosso stesso che nasce appunto dal, si chiamerà Joint Lab, che nasce dall'unione dell'IT, cioè l'IT più Intellimec che è un consorzio di meccatronica. Quindi in realtà diciamo che allo stesso Chilometro Rosso diventerà un contenitore di robotica. Quello che non capisco è Chilometro Rosso è, come dire, un grande co-working dove semplicemente ci sono tante aziende, ognuna che si fa i fatti suoi e stop, o è, come dirà, una vocazione? No, ci sono vari eventi. No, ci sono vari eventi. Ok. Eventi, iniziative, quindi se in un qualche modo ti interessa il tema tech, dentro lì trovi tante attività. Ok. Sì.